Cosa ha significato per l'Air Italy questo co-sharing con Alitalia? È stato un accordo molto importante perché sicuramente ci rafforza sul mercato nazionale e poi speriamo di raccogliere i frutti sul mercato intercontinentale, le destinazioni leisure che Alitalia non copre. C'è stata un'identità di vedute e anche di feeling con il management della nuova Alitalia e la visione del business e questo ci fa molto piacere perché pensiamo di poter sviluppare in futuro molte cose insieme. Abbiamo parlato anche di prossime sinergie anche per voli intercontinentali. Come saranno strutturati o almeno quali potranno essere le formule? Ci stiamo ancora lavorando, c'è il team di lavoro che sta organizzando gli orari e quant'altro. La formula del numero di volo è Air Italy e Alitalia e questo sarà distribuito da tutta la rete europea Alitalia, quindi federato su Roma per allargare l'offerta. 14 aeromobili e per il momento rimarranno tali, poi quest'altro anno speriamo che sia l'anno del consolidamento, non vorremmo aggiungere altra flotta, vedremo poi nel 2012. Comandante Gentile, se ritornasse indietro avrebbe fatto il co-sharing con la vecchia Alitalia oppure no? Assolutamente no, quello che ci ha colpito appunto della nuova Alitalia è il nuovo stile di management che come ho avuto modo di dire è molto simile al nostro e quindi c'è un'identità di vedute e ci sentiamo veramente partners. Ecco, oggi come oggi, come vede il futuro della CAI Alitalia? Beh, lo vedo molto bene, la nuova Alitalia appunto ha una visione precisa del business, stanno presidiando bene tutte le aree, in questi quattro mesi di incontri eccetera si sono creati proprio un feeling, un bel rapporto dove hanno dimostrato di avere sotto controllo la situazione e i risultati lo confermano.